Buonasera. Oltre 6.000 multe, relativa al mese di dicembre, sono state recapitate a diversi cittadini per infrazione al regolamento sulla ZTL. La notizia ha scatenato la rabbia di molti commercianti del centro storico con alcuni che hanno ricevuto sanzioni per migliaia di euro. Il PD ha accusato la Giunta di voler fare cassa sulle spalle dei commercianti e di uccidere in questo modo il centro storico. Ecco la replica del vice sindaco Menani ai nostri microfoni. Tantissime polemiche sono nate dopo l'arrivo delle prime multe ma come avete già ampiamente detto a livello di amministrazione comunale e come ha detto il comandante dei vigili c'era già stata una sperimentazione che era finita alla fine di novembre. Da dicembre a febbraio le cose dovevano andare con la regolamentazione che si era detta. Sì, la sperimentazione è durata indicativamente da fine settembre fino al 4 dicembre. Il 4 dicembre sono stati attivati i varchi elettronici. La sperimentazione abbiamo corretto i primi difetti di gioventù dell'impianto e qualche difetto c'è rimasto. Parlo di inserimento errato di targhe, parlo di non inserimento della targa che accompagna il permesso di isabili. Sono arrivate diverse multe che una volta dimostrata che c'è l'autorizzazione valida o l'autorizzazione per il disabile valido vengono derubricate d'ufficio. Per tutte le altre multe arrivate qualcuno ha lamentato la scarsa informazione e penso che non si possa, o almeno secondo me non si può debitare, una scarsa informazione in quanto sono stati stilati direi decine di comunicati stampa che informavano passo per passo l'evoluzione del progetto. Però siamo disponibili a valutare caso per caso di chi è stato sanzionato per dare le indicazioni migliori e per cercare di risolvere il problema. Ricordo circa un anno fa di aver letto sulla stampa che all'attivazione del sistema Cesena i primi giorni incassavano circa 100.000 euro al giorno. Per chi ha ricevuto 15, 18, 20 multe pur avendo il permesso ed è transitato con la propria auto in un momento magari non regolamentato da quell'orario che cosa si può dire? A chi può ricorrere? Ma in questo caso sicuramente io non ravedo il dolo dal transito improprio. Io ravedo una buona fede dovuta o non aver letto in modo corretto gli orari del transito sul permesso o comunque alla non curanza che il sistema era attivo. Quando si ravvede la buona fede penso che anche i giudici di pace e i prefetti facendo un ricorso motivato ne tengono conto. Dopo non siamo noi a decidere. Se fossimo noi quando si ravvisa la buona fede sapremo cosa decidere. Un arresto ed un ricercato dalla polizia per il furto di rame avvenuto la notte scorsa all'interno dello stabilimento Ex Cisa in via Circonvallazione. Gli agenti del commissariato sono riusciti a mettere le mani solo su uno dei ladri e stanno cercando il complice. Rabia Amadid ha comunicato le sue dimissioni dal direttivo della lista civica per Sassuolo rappresentata in consiglio da Anna Maria Anselmi. Alla base della decisione il cambio di nome del gruppo in Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale definito dalla Amadid un piacere ai due colleghi di Fratelli d'Italia è una scelta che non condivido e che va contro i miei principi. Passiamo allo sport. Ottimo risultato per la Delta Atletica che con Brian Berretti ha conquistato il quarto posto ai campionati regionali FIDAL di Corsa Campestre disputatisi a Correggio. Alla manifestazione hanno preso parte circa 100 giovanissimi. Grazie per essere stati con noi. Per oggi è tutto. Arrivederci a domani.